Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi Punto pronti per il docufilm sulla storia di Beatrice Valli e Marco Fantini? Non sapete su quale canale seguire le puntate sulla storia d'amore nata a uomini e donne? Non disperate. Di seguito tutti i dettagli La storia d'amore e il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini diventano un docufilm su Real Time, scopriamo dove vedere in tv il programma sulla loro famiglia Beatrice e Marco una storia d'amore, dove vederlo in tv? Canale La storia d'amore e il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini verranno proposte in tv con un docufilm per Real Time Con le ultime immagini del matrimonio avvenuto il 29 maggio, infatti, il programma è finalmente pronto per andare in onda sul canale 31 del digitale terrestre Beatrice Valli matrimonio su Real Time, quando inizia? Orario, data prima puntata Ma quando inizia la serie tv su Beatrice Valli e Marco Fantini su Real Time? L'appuntamento è venerdì 24 giugno 2022 in prima serata, a partire dalle 21.20 Quante puntate sono? Non è ancora noto se siano previste più puntate del docufilm Beatrice e Marco incentrato sulla storia d'amore della giovane coppia e sul loro matrimonio Non segui ancora Don Napop su Instagram? Resta aggiornato con tutte le notizie sul docufilm di Marco e Beatrice e le curiosità sulla loro incredibile famiglia cliccando qui Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video